Ciao ragazzi, bentornati da Frommale Sanco. Oggi sono qua per raccontarvi un pochino come vivo la vita da persona amante della musica ma con una macchina vecchia. Cosa significa? Ora, voi che mi seguite magari non avete una macchina, magari vi vivete la vita prendendo il treno, l'autobus per andare a scuola, all'università, insomma l'età media di voi che mi seguite è più o meno la mia e diciamo che di solito quelli della mia età non guidano molto, però dipende un pochino dalle situazioni. Però diciamo che tendenzialmente uno è abituato magari quando si sposta, quando viaggia ad ascoltare la musica e così sono io in primis. Io sono sempre stato abituato, in cinque anni di superiori, tutte le mattine e tutti i pomeriggi andate al ritorno da scuola a ascoltarmi la musica con le cuffie. Oddio, forse tutti e cinque gli anni no, non mi ricordo i primi anni cosa facevo. Però, insomma, ci ho preso l'abitudine di ascoltare la musica, è un momento in cui non posso fare altro, cioè devo camminare per forza e sembra che mi piace ascoltare la musica. Ma quale momento migliore, se no quando sei fuori non puoi fare nient'altro, non puoi distrarti, ti metti la musica sottofondo, ti vedi intorno, non senti, questo è vero. Diciamo che con questa macchina che ho, che è una Toyota Yaris Verso del 2004, non ho la possibilità di mettere canzoni come mi pare piace tramite Spotify, perché la macchina non ha il Bluetooth. In realtà, ci tengo a precisare, per fierezza, che in realtà la mia macchina, nonostante sia così vecchia, ha 20 anni, ha il Bluetooth, ma non per la musica. Perché, ovviamente, ai tempi non era pensato un Bluetooth per il multimediale, ma soltanto per le chiamate. E in qualche specifico modello di Toyota Yaris Verso ci hanno montato il Bluetooth come optional. Ed è molto raro. Cioè, se trovate in giro una macchina, Toyota Yaris Verso, cercate su Google che macchina è, sicuramente l'avete già vista. Con dietro il simbolino Bluetooth, che è, se non sbaglio, è un quadratino blu, che ho scritto blu, blue, vuol dire che quella macchina ha il Bluetooth per le chiamate. È veramente raro. Io non ho mai visto nessuna macchina, nessuna Yaris Verso, con quel simbolo, se non la mia. E tra l'altro a me mi si è staccato, quindi, vabbè. Quindi, niente. Momento, parentesi, chiusa. Come me la vivo? Come faccio? Ascolto la radio? Beh, la mia macchina è il lettore CD. Per fortuna non c'è il lettore delle cassette, altrimenti non saperebbe come fare. Ma con il lettore CD, ovviamente, io, tutti i dischi, tutti gli album che vi ho fatto vedere nella serie delle recensioni dei CD, non hanno soltanto uno scopo collezionistico come per la maggior parte delle persone nel 2024. Giustamente, chi è che si ascolta i CD? In pochi. Specialmente in macchina, perché ormai sono in disuso. Diciamo che si fa molto prima le macchine che non hanno il Bluetooth, magari hanno, tipo, puoi metterci la USB. Non ho idea di come funzionino, sinceramente. Sono solo... cioè, di macchine che sono abituato a vedere sono due. Quella mia e quella di mia mamma. Quella di mia mamma c'è il Bluetooth, quindi ci collego il telefono e qualsiasi cosa metto da telefono, che sia YouTube, che sia Spotify, viene riprodotto. Oppure la mia macchina che ci infili il CD. Oppure puoi metterla a radio, non ci sono altre opzioni. Il problema qual è? È che io posso comprare quanti CD mi pare. Fortunatamente esiste anche il buono scultura, quindi tanti soldi che avrei speso non li ho spesi grazie al buono scultura. Ma se io volessi ascoltare una canzone, che, visti i tempi moderni, può succedere molto spesso, non esiste fisicamente, come faccio? Perché tanti artisti magari pubblicano dei singoli. Oppure qualche artista che magari è all'inizio pubblica sulle piattaforme digitali, ma non crea un album fisico. Come faccio in questi casi? Beh, mi sono imparato ad arrangiare. E la soluzione è questa. CD, vuoti. Li infilo nel lettore. Anni fa mi sono comprato un lettore esterno perché il mio portatile non ha il lettore incluso. Ce li infilo qua. E io ci posso inserire quello che mi pare. Potenzialmente potrei anche inserirci un film solo audio. E ascoltarmi una specie di audiolibro. Quindi posso farci quello che voglio. E è molto carino come mezzo. Ne avevo presi una decina. E li ho finiti. Una decina di album sono abbastanza. Anche perché tendo a riempirli. Cioè, se io magari mi voglio scaricare un album che non esiste fisicamente, ma quell'album dura 40 minuti, questi CD supportano un'ora e venti di contenute, allora cosa faccio? Mi scarico con i 40 minuti e ci aggiungo altra roba per riempire il più possibile. Quindi vuol dire che su dieci album sono una decina d'ore, se non di più, di musica. Quindi è tanto comunque. E costano poco, pochissimo. Cioè, i dieci album che avevo preso avevo pagati 5 euro circa su Amazon. Adesso ne ho presi un po' di più. Prima vi dico il prezzo. E poi vediamo se è arrivato a capire quanti sono. 15 euro, ok? Per dieci CD avevo speso 5 euro. Ora ne ho spesi 15. La marca è la stessa identica, sempre comprata su Amazon. E i dischi sono i seguenti. Oddio, visti così possono anche non sembrare tantissimi, ma sono 50 CD. Quindi potenzialmente potrei farci entrare più di 50 ore di canzoni. E' la mia playlist dove butto, su Spotify, dove butto letteralmente tutto quello che ascolto e che dico ci sta, neanche è figo. Ci sta, ce lo butto dentro e dura, non mi ricordo quanto, ma sulle 56 ore. Questo significa che questi 50 CD sarà veramente difficile riempirli. Anche perché sulle 56 ore di playlist, tante ore sono di album che ho acquistato. Facendo un breve calcolo, io ho una quarantina di CD tra i 40 e i 50. Non mi ricordo di preciso quanti. Quindi già sono tantissime ore della playlist occupate da album che già possiedo. Quindi vuol dire che ho altri, oltre a questi 40 e passa album già pronti, ne ho altri 50 da poter masterizzare. Che non credo finirò. Cioè, nel senso, penso che non riuscirò proprio a utilizzarli tutti. Però per 15 euro, nel senso, ho praticamente una scorta illimitata di CD. Non credo che li finirò perché a un certo punto dovrò cambiare macchina. Io spero che la mia macchina duri il più possibile, perché non ho intenzione di, sinceramente, comprarne una nuova. E se quella che ho al momento non mi dà problemi, perché un giorno con calma ve la farò vedere. Ve la approfondirò, vi dirò cosa ne penso della mia macchina. Ma vi do un breve anticipo. Mi trovo benissimo. È una macchina vecchiotta, molto vecchia. Ma io sto da Dio, anche così, sinceramente. Peccato, ovviamente, per tutte le varie cose che puoi fare con una macchina nuova. Avendo il tablet, avendo tutte le varie connessioni con il telefono. Però, tanto, io mi appendo il telefono lì davanti. Se c'è da mettere Google Maps, metto Google Maps. Mi arrangio, quindi sto bene così, sinceramente, senza dover spendere nulla. Quindi aspettiamo che è possibile, così metto soldi da parte. E quando devo cambiare macchina, posso prendere una macchina bella. Ma non siamo che a preparare di macchine, bensì di questi CD. In realtà non è che ci sia molto da dire, ma... Tra l'altro, se vedete, sono due modelli diversi. Perché... I primi 10 CD che avevo comprato non li ho ancora finiti. Perché mia zia me ne ha regalati altri. Altri 6, 7, non mi ricordo. Tra cui alcuni CD. Rewritable. Perché sì, esistono due tipi di CD. I CD R e i CD R. I CD R, di cui ne ho comprati una quantità industriale, sono CD che ti infili a roba dentro, fine. E poi diventano CD da leggere. Non puoi in nessun modo riscriverci sopra. Non li puoi resettare. Non puoi farci niente. Una volta che l'hai fatto, l'hai fatto. Il CD Rewritable funziona un po' come una USB. Quindi puoi riscriverci sopra quante volte vuoi. E puoi leggerlo. Quindi... Posso aggiornarli. Infatti li utilizzo. Per esempio... Ne avevo tre in tutto. Uno lo sto utilizzando per Mudindi. Che è un grande artista. Che ultimamente sta pubblicando non album, ma sta pubblicando un singolo ogni mese, ogni due mesi. Ultimamente sta pubblicando molto meno. Però... Ha preso a fare questa cosa, ha detto non credo che farò un album con queste canzoni, ma voglio sperimentare. Sta pubblicando via via una canzone ogni tanto. In questo caso io non è che posso masterizzare un CD ogni volta che lui pubblica una canzone nuova. Quindi mi sono arrangiato utilizzando uno dei tre CD riscrivibili per Mudindi. Quindi ogni volta che esce una canzone nuova io rinfilo il disco, me lo resetto e ci ributto tutto dentro con la roba nuova. Così è come vivo la vita da persona che ha una macchina vecchia. Non so se potete capirmi. Io sinceramente... Cioè molti magari vedendo questa roba direbbero Ma quanta... Cioè che palle! La mia macchina! Ma cosa... Che dottura di coglioni! Che devi comprare CD, masterizzare, fai quello, fai quello... Ma chi se ne frega! Io mi diverto! Alla fine la spesa è veramente minima. Cioè io ho speso in tutto in CD masterizzati 20 euro. E alla fine sì, ci perdo un po' di tempo, ma io mi diverto. Poi non ho da farveli vedere, ma una volta che li masterizzo ho i miei pennarelli indelebili. Ci scrivo il rosso il nome dell'artista e il nero il nome dell'artista. Album o della playlist, a volte stampo delle... Cioè stampo, masterizzo delle playlist, cioè dei mix. Ma arriviamo a invece i lati effettivamente negativi, seri, che mi danno fastidio anche a me. Il lato negativo principale è l'ordine. Sembra una cazzata, ma quando io vado a recensire i CD e vi faccio notare magari spesso e volentieri la costola quindi la parte che sta sul bordo del CD e che permette di leggerlo all'interno della libreria potrebbe sembrare una cazzata. Ma pensate avere 50 CD? Tutti? Così. Come fate a trovare un CD? Cioè io vi do questo mallocco e vi dico tieni, mi prendi il CD di Modibi? Ci sverni? Ci fai mezza... Cioè veramente, ti riprende le ferie. Però c'è da dire che... Cioè ora... Con i CD così vuoti è letteralmente impossibile capire qual è. Però... Con i CD, come sto facendo io, con i titoli scritti in... Penare a non edilebile si possono ritrovare. È pallosissimo, ma si possono ritrovare. Quindi sto studiando delle tecniche per risolvere anche questo problema. Stavo pensando magari di semplicemente dividerli per lettera. Quindi mi li metto in ordine alfabetico e faccio, non so, un gruppetto per la A, un gruppetto per la B e magari ci metto un foglio esterno con scritto A, B, C, eccetera. In modo che quando vai a scegliere il CD vedi la lettera e prendi quella lettera lì. Quindi hai una selezione un po' ridotta. Mamma mia, non riesco a parlare... Non so, mi sembra di star parlando in modo prolungato e inutilmente. Cioè che potrei raccontare una cosa in una frase e invece ci metto sei anni. Vabbè. Perché oggi non sapevo che video fare. Quindi ho detto, ma parliamo di questa cosa. Voi avete mai masterizzato un CD? Sapete come si fa? Volete un tutorial su cui masterizzare un CD? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque, niente. Io non so più che dire. Direi che è stato detto tutto da Framale Sanco, che è il mio alter ego. Vi ringrazio per la visione di questo video e tra l'altro ci tengo a fare un piccolo escursus. Ultimamente siamo saliti un botto di iscritti. Ma tanto. Cioè, eravamo a 100 iscritti pochissimo tempo fa. Siamo già a 121. Cioè, crescono... Proprio negli ultimi giorni ho visto che crescono tipo uno al giorno. Che sembra poco. Ma per un canale che è aperto da quattro anni e che ha 120 iscritti, bisogna considerare che così tanti iscritti in un periodo così ristretto non li ho mai fatti. Quindi, niente. Vi ringrazio. Ringrazio tutti quelli che si stanno iscrivendo. Tutti anche quelli che commentano nuovi. Perché ho visto che ci sono dei commenti di persone nuove a cui magari non ho neanche risposto perché non ho avuto il tempo di mettermi a rispondere. Però, vi ringrazio. Insomma, tanto non starete sicuramente vedendo questo video. Ma io, così, tanto ringrazio al vento. Quindi, possiamo concluderci qua. Proprio noi ci possiamo concludere. Io spero domani di riuscire a farvi video di Fragore di Belle perché ne ho saltati troppi. Quindi spero di riuscire a farlo. E, comunque, ci vediamo domani e poi sempre e comunque io vi auguro un ottimo showbret. Groblimits.